Il silenzio stampa imposto dal terramo calcio a tempo indeterminato è il modo peggiore che la società potesse scegliere per augurare un buon anno alla città. Sarebbe interessante, oltre che corretto nei confronti di addetti ai lavori e tifosi, esplicitare i motivi della decisione che sfuggono e più. Altrimenti il messaggio che passa è di un provvedimento punitivo nei confronti di chissà chi o cosa. Certamente è innegabile che una simile scelta di chiusura nei confronti dell'esterno alimenti segnali di nervosismo e insofferenza che a cadenza regolare filtrano dalle stanze societarie. Il silenzio stampa ad ogni modo non impedirà ai giornalisti di fare il loro lavoro, mentre potrà avere solo l'effetto collaterale di allontanare simpatie e sostegno da parte della piazza, che invece ha bisogno di coinvolgimento, entusiasmo e trasparenza. In questo clima che è di sereno a poco, la squadra si allena per farsi trovare pronta alla ripresa del campionato. Poco meno di dieci giorni per la trasferta sul campo della Sicula a Leonzio. Dal poco che filtra, il mercato non porterà stravolgimenti, ma solo correttivi. In attacco sono dati in partenza Cianci, tante le società che ci stanno facendo un pensierino e Martignago. I sostituti individuati sarebbero Barisic e Curriale, entrambi in uscita da Catania per esigenze di bilancio. Della Sicilia però rimbalzano notizie di un mancato accordo tra il Teramo e due attaccanti, mentre su Curriale tenta l'inserimento in Ravenna, che lo ha già avuto al soldo un decennio fa. Fronte terzino sinistro, si fa il nome di Pietro Visconti, classe 89, in scadenza col Novara, una sola presenza quest'anno in campionato. Si preannuncia in sintesi un mercato difficile e con pochi margini di movimento, come sempre nella fin troppo lunga finestra di riparazione.